E c'è chi nasce come il paperino, sfortunato e sempre pieno di guai. E c'è chi legge come il popolino, carino e intente, intente e spattuto a lei. E c'è chi legge come il paperino, pieno di fantastiche e di milioni, ma questa sveglia tutte le notti per paura che prendi la palla la storia. Ma io mi sento come un virgoio, che cade ma non molla mai, che fa progetti strappalagli e troppo butti il cappio e quelli di cui non prenderà mai. Ma siamo tutti come un virgoio, che ci vintiamo sempre nei guai. Ci può cadere il compagno, soffrire sotto il masso, ma noi non c'è il piede, non c'è il piede, non c'è il piede, non c'è il piede. C'è chi vive come l'eta e l'eta, sembra che si è appollata nessun altro pianeta e non si alza l'altra macchina, se non si spara un pochino da piena. E c'è che l'uomo è dietro, gamba di te, sempre al regno è uguale che lo schissimo dice, e c'è chi vorrebbe avere tutte le risposte come da un male delle giovani maconai. Ma io mi sento come il coyote, che vale ma non l'ha mai, che fanno centri stremati e troppo pubblicati, e quindi il coyote non l'ha mai. Ma io mi sento come il coyote, che ci finchiamo sempre nei guai, ci può cadere un po' addosso, finire sotto il manco, ma noi non ci renderemo mai. Ci siamo tutti come il coyote, che ci finchiamo sempre nei guai, ci può cadere un po' addosso, finire sotto il manco, ma noi non ci renderemo mai. E poi veramente un grande applauso, un grazie a questo artista, Eugenio Finardi, grazie tanto. E' veramente un evidente presto, è un piacere molto, grazie.